allora benvenuto a tutti questa nuova trasmissione ovviamente è la quarta puntata della mia diretta e iniziamo stavolta di nuovo con dura di denkin weng chi ovviamente e poi ci sarà una bella sorpresa dopo di dura buon ascolto quando io la vi dì se esa mujer fuera para mi perdoname te lo tenia che dicci attura 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 mano arriva perché tu te ves bien attura mamatita te fuiste de nivel attura mira como brilla tu piel attura dimeno dimelo come qui attura io te doy un 20 de 10 attura 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 tu eras la maquina la maquina del baile si no tiene a nadie vente pa mi brazo gailer questo perfume se siente nel aire algo come argentina tu me trai lo buenos aires esta poderosa media escandalosa habrá muchas mujeres pero tu eres otra cosa si fuere un delito eso de que estas hermosa te arresto en mi cama y te pongo las esposas tienes el toque 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 miren el material edición especial tienes el toque 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 perdoname te lo tenia que decir attura 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 att Grazie per la visione 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 Grazie per la visione